Cari amici, la cappella musicale Pontificia, detta anche Sistina, è tra le più antiche istituzioni corali del mondo e ha la caratteristica unica di essere il coro del Papa. Il nome Sistina, con il quale è universalmente conosciuta, rimanda ad un luogo altamente simbolico posto nel cuore del palazzo apostolico Vaticano, la cappella magna della casa del Papa fatta erigere dal Sisto IV e affrescata dai grandi quattro cinquentisti e da Michelangelo. In essa viene proposta al credente e al visitatore una sintesi teologica ammirabile della salvezza portata da Cristo e dalla nuova legge del Vangelo, attesa dai pagani, preparata dall'antica legge mosaica e annunciata dalla profezia dell'Antico Testamento che si conclude nel destino ultimo dell'uomo chiamato a misurarsi liberamente con l'annuncio del Vangelo. Tale mirabile cappella, pur non essendo più utilizzata per il quotidiano servizio liturgico del palazzo e per le solenni celebrazioni del Pontefice, dette appunto cappelle papali, resta un luogo di culto nel quale si compie l'atto solenne dell'elezione del Papa. Così la cappella Sistina, almeno simbolicamente e idealmente, rimane il centro spirituale liturgico della vita della casa del Papa e della sua famiglia alla quale presiedeva anticamente il maggior domo di sua santità e ora il prefetto della Casa Pontificia, che dopo la riforma di Paolo VI ne ha raccolto l'eredità prendendosi cura anche dei cappellani cantori, membri particolarissimi della Domus Pontificalis fin dai tempi di San Gregorio Magno che riorganizzò una speciale scuola cantorum nel Patriarchio Lateranense. Tali caratteristiche della cappella Sistina e dei cantori che vi esplicavano quotidianamente il loro servizio li inserisce all'interno della vita della casa del Papa e fa della cappella musicale un'articolazione della prefettura della Casa Pontificia che ha come compito specifico di essere un organismo di servizio totalmente dedito al Pontefice di cui cura le udienze e le celebrazioni esclusa la parte strettamente liturgica che spetta all'ufficio delle celebrazioni liturgiche del Santo Padre e anche gli ambienti dove il Papa esplica la sua ordinaria e pubblica attività. La prefettura della Casa Pontificia è il referente della cappella musicale per quello che compete la sua gestione artistica, amministrativa e disciplinare. Si tratta di una realtà composita ed articolata formata da 20 cantori adulti regolarmente assunti dalla Santa Sede a cui si aggiungono circa 30 pueri cantores che frequentano la scuola elementare paritaria anessa alla Sistina. La pubblicazione di un CD musicale con la prestigiosa etichetta discografica Dolce Gramofon costituisce un evento inedito per la storia della cappella musicale Pontificia che attesta la qualità e professionalità che questa istituzione ha raggiunto grazie al lavoro serio e assiduo di tutti sotto la guida del maestro direttore Monsignor Massimo Palombella. La Dolce Gramofon è leader nel settore discografico per essa hanno inciso musicisti come von Karajan, Bernstein, Richter, Abado, Barenboim regolandoci storici capolavori di interpretazione e ora anche la cappella musicale Pontificia entra così in questa illustre famiglia firmanda con essa un'esclusiva quinquenale di cui non possiamo non compiacecene. Credo però di interpretare anche i sentimenti dei cantori e del maestro della Sistina sottolineando come tale importante traguardo sia vissuto non semplicemente come un punto di arrivo ma come la conseguenza di un lavoro che continua per rispondere sempre meglio al mandato che è proprio di questa istituzione pontificia servire il ministero pettrino ed evangelizzare attraverso la musica. La musica e l'arte sono fondamentali per il cristianesimo in quanto non solo toccano le corde più profonde dell'uomo ma perché quando sono destinate alla liturgia aiutano ad esprimere il cuore dell'evento cristiano cioè l'incarnazione. Pertanto la Chiesa continua ad investire in cultura e nella musica. La Santa Sede lo fa attraverso la cappella musicale Sistina, le altre cappelle musicali delle Basiliche Papali e il Pontificio Istituto di Musica Sacra sapendo bene che la perdita dell'arte, del bello e della cultura significa smarire un veicolo essenziale di evangelizzazione e privare il mondo di quel raggio di bellezza che lascia intravedere quella bellezza per dirla con Dostoevsky che sola salva il mondo. Grazie. Grazie a te Massimo per questo intervento dietro cui intuiamo la quantità di lavoro che è stata svolta da te con la cappella Sistina la quantità di prove, di impegno che sta dietro ad aggiungere a questi risultati e poi grazie anche per queste considerazioni diciamo così profonde sul rapporto con la trascendenza e con la ricchezza culturale che questa musica rinascimentale ci porta. Allora adesso abbiamo un poco di tempo per delle domande di approfondimento e quindi diamo la parola al pubblico e apre le danze come al solito Angela Ambrogetti, a lei la parola. Angela Ambrogetti, Acistampa e Corazim due domande molto semplici uno, forse non ho letto bene ma il ricavato della vendita di questi dischi ci sarà anche una parte in genere si usa per la carità del Papa o roba del genere magari ce lo spiegate e poi lei padre all'inizio ha detto che si può andare a vedere il concerto chiedo al padrone di casa qui al prefetto siamo invitati anche noi, possiamo venire stasera oppure no? Va bene, anzitutto La prima domanda scusi Allora, chi risponde? Circa il ricavato per la carità del Papa quando abbiamo avuto i primi contatti con George Gamow e quindi ci è stato proposto concretamente il progetto di questi CD insomma questi progetti, io ovviamente chiesi di poter parlare col Papa per questo e per averne un'autorizzazione perché noi comunemente pubblichiamo con l'editrice vaticana abbiamo sempre pubblicato con l'editrice vaticana e nel dare l'autorizzazione il Papa ha chiesto chiaramente che il ricavato di tutto quello che verrà da questi CD vada per la sua carità È possibile andare al concerto oggi? È possibile per tutti quelli che hanno ricevuto un invito Va bene Grazie Chi ha ricevuto l'invito è invitato Dixi Molto bene Grazie Ho risposto? Sì, sì, ricevo Altre domande? Klaus Blume dell'Agenzia tedesca di stampa Questi giorni si è parlato molto di altro CD del Papa con il nome di Wake Up Solo per caso che le due appaiano quasi simultaneamente? C'è un CD che è di Comisigama che è di San Paolo Voi fate come pensiamo questi Ah, beh, sì, credo che non c'entra assolutamente nulla Questo CD della San Paolo avevano chiesto l'autorizzazione di uso di alcune delle parole registrate del Papa che per essere poi unite, diciamo, a dei commenti musicali ma sono due realtà completamente distinte quindi questo di cui parliamo rientra in un programma culturale di lungo corso molto importante di cui, come abbiamo detto, già è stato pubblicato un CD tempo fa l'altro invece è un'iniziativa delle edizioni San Paolo diciamo che di carattere un po' episodico, se vogliamo Sì, Sergio Mora, Zenit in spagnolo e a Monsignor Palombella so che avete avuto pratiche insieme ai cori della Germania, dell'Inghilterra e della Russia in un programma più forse ecumenico ma queste esperienze hanno aiutato anche al traguardo che oggi arriva il coro della Cappella Sistina? Sì, il progetto ecumenico della Cappella Sistina nacque con Papa Benedetto nel 2012 a seguito della visita che Papa Benedetto fece in Inghilterra nacque in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo di portare il coro di Westminster Abbey e lavorare insieme per la celebrazione allora abbiamo fatto questa prima esperienza che è stata molto positiva e da qui si è in qualche modo stabilizzata come tradizione in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo di portare sempre un prestigioso coro non cattolico insieme alla Cappella Sistina e quindi l'anno dopo è venuto il coro San Tommaso di Lipsia il coro di Bach quest'anno cioè l'anno dopo ancora scusate è venne il coro del patriarcato di Mosca e quindi ortodossi lo scorso questo giugno del 2015 abbiamo di nuovo avuto gli anglicani con il coro New College di Oxford sicuramente queste esperienze e devo dire l'esperienza iniziale fatta con il coro di Westminster Abbey è stata un ottimo dato un ottimo incremento per una qualità del coro perché il confronto è ciò che fondamentalmente fa crescere e quindi il poter dialogare e usare la musica come strumento di dialogo ecumenico e vi posso assicurare che il lavorare insieme agli anglicani e ai luterani e all'ortodossi ci accorgiamo come sono più le cose che ci uniscono che quelle che ci dividono perché bisogna rintracciare le fonti comuni fa un grosso lavoro di studio siamo sempre lì cioè la realtà si pone con dei mattoni solo se si studia allora bisogna studiare da entrambe le parti rintracciare cose comuni e quindi è stato sicuramente una grossa apertura che ci ha fatto recepire ad esempio di tutto il mondo inglese ciò che ha di positivo a livello vocale una chiarezza un'intonazione disarmante ma insieme ci ha fatto anche riflettere su ciò che caratterizza identitariamente il suono di questa istituzione quindi un'istituzione che vive in un preciso luogo che ha una storia cioè sicuramente il confronto obbliga a una crescita di identità se si evita il confronto si rimane dei bambini affettivamente umanamente si rimane dei bambini è la stessa cosa succede per le istituzioni se a un certo punto si chiudono e si dice noi siamo i migliori del mondo non abbiamo bisogno di confronto con nessuno si rimane dei bambini e si peggiora siccome ho parlato dell'ecumenismo anticipo che il 29 giugno del 2016 cercheremo di mettere insieme in occasione dell'anno santo della misericordia anglicani luterani ortodossi e cappella Sistina sempre per la celebrazione del 29 giugno nella basilica di San Pietro grazie vorrei chiedere può dire anche qualcosa sui vari luoghi nella cappella Sistina i quali abbiamo usato per per fare queste registrazioni sì la registrazione è stata fatta cercando anche di recuperare una certa pertinenza filologica nello spazio dove si è registrato e cioè abbiamo usato la cantoria della Sistina per il canto gregoriano e abbiamo inciso il misere di Allegri probabilmente nella stessa forma con cui veniva eseguito storicamente nel senso che i solisti non erano in cappella Sistina ma erano nella sala regia a cantare come questa sera sarà al concerto perché molto probabilmente così avveniva nelle celebrazioni delle cappelle papali in quanto non si vedevano i solisti da dove cantavano quindi per deduzione non erano in cappella Sistina quindi probabilmente erano in sala regia e anche circa la scelta di chi faceva i solisti ecco non abbiamo messo dei bambini ma attenendoci a una certa prassi rinascimentale i solisti sono stati fatti da falsettisti cioè la parte del cantus è stata fatta da falsettisti quindi anche su questo si è cercato di recuperare una certa pertinenza filologico-estetica grazie sono Krista Kramer giornalista vaticanista dall'82 volevo chiedere i diritti d'autore a chi appartengono cioè in questo caso se uno per un filmato vuol comprare una delle musiche appartengono alla Dolce Grammophon completamente a chi uno si può rivolgere seconda domanda dato che abbiamo sua eccellenza Monsignor Genswein volevo chiedere di salutare tanto il nostro Emeritus e volevo sapere se a lui forse gli è piaciuto il disco e gli ha fatto anche piacere che in questo caso sono stati coinvolti dei tedeschi che sono come noi sappiamo anche dei grandi autori di grande musica Massimo riguardo gli autori non sappiamo se risponde a questo ma tutti inventi qualcosa sicuramente tutta la questione di allora per quello che compete il il ricavato come ho già detto andrà tutto per la carità del Papa per quello che compete direttamente il prendere un filmato il prendere qualcosa credo che bisogna rivolgersi all'ufficio legale di Deutsch-Gamufon che poi si intende con la cappella musicale pontificia si porta volentieri i saluti grazie al Papa Benedetto e merito non devo porta cosa si porta a Roma vino non da noi si porta acqua nel reno se dico che è un grande ammigliatore della musica sacra e certamente ha sentito già questo CD era molto contento e fa grandi grandi auguri a quelli che hanno eseguito ma anche a quelli che lo sentono qualche altra domanda bene mi pare che allora non ci sono più dubbi particolari tutti ammirano noi fanno complimenti e allora per chi può andare a sentire questa sera il concerto buon ascolto e se qualcuno adesso desiderasse fare un'intervista con qualcuno dei presenti come si fa ogni tanto al termine di queste conferenze stampa i presenti sono a disposizione qui nella qui nella sala se vuole venire invece su eccellenza può farle di là in uno degli uffici e allora grazie a tutti per l'attenzione e buona continuazione grazie prego grazie grazie